Io sono a casa mia, ma non muovo, ma proprio a casa mia, quindi è il modo più semplice, mi dicono che c'è un grande movimento, io sono felicissimo, quando San Giorgio fa cose belle, io ci sono, e come c'è lì? C'è lì, ma non c'è lì, ma non c'è lì, ma non c'è lì. Mi piace di essere qua a te, ovviamente, perché ci regala un buon cizio, ma è 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 un buon cizio. Grazie.